E bento ragazzi sono già questo qua, il primo video della prima serie di Black Ops 3, la beta che si chiamerà Q&A, Black Ops 3 Q&A che in breve consiste in voi mi fate le domande come vedrete in questo video che ho chiesto su Facebook e io proverò le cose che mi avete chiesto perché magari non ci avete la beta comunque non ci avete sbatta di provare, le proverò io e vi risponderò direttamente qua in live nel video Fatemi qualsiasi domanda vi capita per la testa per Black Ops 3 io risponderò nel prossimissimissimo video che uscirà domani al più presto possibile Allora partiamo direttamente con le domande che è la domanda che più gettonata e salda si può fare l'ista swap, allora l'ista swap si può fare non è uguale, identico a Black Ops 2 è diciamo un po' più simile ad Advanced Dwarfair perché è un po' più lento diciamo da fare comunque non so se magari c'è un perk che sbloccherò più avanti per fare gli equipaggiamenti più veloci però ora come me si può fare benissimo l'ista swap è un po' più lento, bisogna abituarsi si può fare i reload knock allora i reload knock sono due uno con la ricarica normalissima che hanno tutte le armi e in più il secondo reload knock quelli che hanno le armi con lo scarrellamento quello con lo scarrellamento non sono riuscito a farlo tutto il giorno che ci provo non mi esce né col pompa né col cecchino quindi se non si può fare quello presumo che non si possa neanche fare il tit-knack ma comunque ci può fare in continuazione il reload knock completo ovviamente si può fare benissimo comunque state vedendo qua sotto i video diciamo allora visto che tanti hanno notato che si può salire sui muri tutti mi hanno chiesto Gio ma sui muri puoi girare e far sui trick prima di saltare e girare sulla piattaforma quello no perché se tu provi a girare sulla piattaforma cadi mentre si può fare trick se tipo ti aggrappi in una parete poi ti lanci e inizi a girare per fare trick quello si ed esce abbastanza carino eh allora il fade e il fake handshot escono entrambi escono veramente bene uguale a identica black ops 2 e soprattutto e poi mi hanno chiesto anche l'infinity fade anche l'infinity fade esce uguale a identica black ops 2 sia il fade sia il fake sia l'infinity fade sono veramente belli allora si lo zoom load ovviamente si può fare basta che accoltellate premete la mira e ricaricate e viene benissimo e nulla ragazzi qua è finito il primo video di black ops 3 fatemi altre domande nei commenti che volete sapere nel prossimo video comunque cercherò di portarvi sempre da disegno video su black ops 3 magari anche un road to killcam se ritrovo gente con cui andare magari le lobby sono carine magari alcune cose che ho detto sono tra virgolette sbagliate perché comunque sono a livello 5 su black ops 3 ho provato praticamente andavo online fermo così come vedete a fare queste cose e basta cioè non provo altro non provo a killare eccetera quindi adesso cerco di livellare un po' magari sblocco nuove berche nuove cose e vi dirò altrissime cose altrissime novità comunque scrivetemi nei commenti delle domande che magari avete dei dubbi comunque vi spiegherò io non fidate di tutti gli altri youtuber che una miriade di youtuber che stanno facendo video su black ops 3 chiedete direttamente a Gioe un bel like lasciate un bel like un bel commento da Gioe è tutto bella a Gioe è tutto